ciao a tutti amici smart e ben ritrovati sul mio canale per prima cosa voglio ringraziare tutti gli iscritti che mano a mano stanno crescendo io cerco di migliorarmi ogni volta siamo arrivati a 16 so che sono poche forse fa ridere la cosa però veramente ringrazio a tutti comunque iniziamo con la recensione oggi voglio presentare questo a questa lente macro 20 per che ho ricevuto ormai già da un po di tempo grazie al sito weapon e la marca e ep excel come potete leggere è una lente 20 per macro da aggiungere a quasi tutti gli smartphone il 99 per cento di smartphone sono compatibili e vedremo il perché la confezione è un semplice cartone veramente semplice ma carino qui dietro oltre alla marca possiamo vedere delle piccole delle piccole indicazioni qui c'è il qr code del sito dove si commercializzano questi prodotti ep excel e qualcos'altro ancora di più e nient'altro dice ok ci sono le dimensioni la lente 10 mm la distanza diametro max scusate massimo diametro 15 mm e una lente costruita con tre elementi di due gruppi e così via comunque vi ricordo questa è soltanto solamente macro quindi serve per vedere gli oggetti da vicino come adesso vi faccio vedere nella confezione oltre a questa scatola c'era anche questo piccolo panno per tenere pulito la lente per tenere pulita la lente ok ma a vedere cosa c'è intanto nella nella cassetta nella scatola o che la scatola si presenta così benissimo dobbiamo aprire senza cercare di romperla ok vediamo qui questo è ben protetto dalla da un da un soffice ulu ok qui c'è ci sono delle piccole indicazioni come si utilizzano come come si si può inserire come si deve inserire e dove si mette da che parte si mette della lente ma comunque è veramente semplice siamo abituati a leggere le cose in cinese questi per fortuna in inglese ma è veramente semplice useremo questa piccola carte per per fare le prove per ingrandire quello che si è scritto che c'è scritto ok il kit è composto da due pezzi qui c'è il gancio il gancetto ok lo sito si mette la lente qui c'è un diciamo un gommino così non si rovina il display qui dentro qui è il porta lente qui dentro c'è la lente l'apriamo con con attenzione per non farlo cadere ok questa è la lente cerchiamo di non metterci le dita le dita sopra comunque nel caso ci mettiamo le dita c'è il panno che possiamo utilizzare ok togliamo questo inserimento raccomando con accuratezza per non farlo cadere ok vediamo questo non riesce a mettere a fuoco la cam ok va così la parte esterna ma esterna ok così semplicissima comunque lascio sono dimenticato di dirvi che lascio il link in descrizione lo potete acquistare veramente con pochi euro su amazon ok questo è il mio smartphone va a posto così quindi diciamo che tutti gli smartphone che hanno la fotocamera su che non che non sorpassi questa distanza diciamo che sono compatibili ok comunque 99 per cento di smart non sono compatibili allora l'inserimento è molto semplice vedete allora basta vedete non riga perché comunque qui c'è anche un un gommino quindi non si riga neanche se è in alluminio piano piano e andiamo a posizionare sulla lente ok cerchiamo di metterlo il più al centro comunque non so se si riesce a percepire comunque un attimo che che lo controlliamo bene ok così lo mettiamo direttamente al centro della lente ok andiamo a sbloccare il nostro smartphone benissimo e adesso vi faccio vedere come come riesce a fare delle foto solo in macro anche se sono in macro veramente però dopo lo togliamo con la stessa distanza e vedremo se riusciamo a fare le foto io ci ho provato credetemi dopo lascio anche altre foto sul video e credetemi che non è possibile ok utilizziamo questa la ok utilizziamo vedete quanto è a fuoco guardate più vicino e più a fuoco questo è un ingrandimento 20 per una lunga distanza non mette a fuoco perché giustamente è una lente macro appena vicino ok più è vicino e più si vede bene guardate il logo di youtube non riesco a tenere fermo scusate e un 20 per ok se io adesso tolgo questa questa spostiamo semplicemente vediamo se riusciamo a mettere a fuoco alla stessa distanza vedete è impossibile comunque sia oltre che metterà a fuoco non è così ingrandito vedete per mettere a fuoco comunque bisogna allontanarlo così è in macro non non riesce a fare le foto a fuoco assolutamente con nessun smartphone è possibile credetemi vedete se noi rimettiamo la lente più al centro possibile così al centro alla stessa distanza vedete che differenza guardate perfettamente a fuoco veramente mi ha stupito l'utilità l'utilità che ne possiamo avere è per chi magari vi piace vedere delle poche piccole fa dei lavori di di bricolage di queste cose che ha bisogno di ingrandimenti vedete di fare delle foto ingrandite al 20 per cento guarda io ma facciamo una cosa ce lo facciamo proprio sopra vediamo se non arriva la luce sta proprio quasi appoggiato solo l'altro un millimetro per non per fare entrare la luce vedete che bel ingrandimento che ci abbiamo sfido senza questa lente a fare la stessa cosa scusate benissimo ho sbagliato forse riuscirò ecco ok vedete a parte che non è a fuoco ma anche molto più lontano e che dire ragazzi costano costa veramente pochissimi euro io se vi piace fare delle foto macro non c'è stato nessun problema al fantastico smartphone se se dicevo se se volete avete bisogno di fare delle foto macro e così ravvicinate io credo che sia veramente una ottima soluzione spendendo veramente pochissimi euro non pochissimi addirittura ancora di meno di pochissimi cercherò di farmi inviare magari anche altre lenti perché era l'ap excel fa anche lenti per per lontano c'è monoculari nel senso per ingrandire lontano 8 10 anche 20 per 20 per ok per momento io vi lascio qui mi ringrazio sempre di seguirmi se vi è piaciuto il video mi raccomando un bel like iscrivetevi mi raccomando anche convidete condividete il video perché condividendo veramente mi aiutate a far crescere il canale così che io possa comprare o farmi arrivare diversi oggetti da da testare e comunque se avete qualche qualche idea qualcosa che volete far che io provi basta che me lo dite e proviamo a farcelo arrivare o acquistarlo allora per il momento vi lascio alla prossima ciao ciao amici smart ciao ciao